Oggi c'è RadioRomalibera.org, la prima emittente di podcast 14 in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org Nello scorso podcast ci siamo lasciati con la descrizione delle fonti della moralità degli atti umani. Abbiamo anche chiarito che affinché un atto umano sia moralmente buono, devono essere simultaneamente buoni sia all'oggetto, sia alle circostanze, sia all'intenzione. Se anche una sola di esse presenta un male, l'intero atto divenne malvagio, similmente a quanto avviene aggiungendo anche una minima quantità di inquinante in un bicchiere d'acqua purissima. Vediamo allora insieme alcuni esempi di atti umani per capire come analizzarli alla luce dei criteri sin qui delineati. Allora, abbiamo detto che l'oggetto o fine prossimo o natura relazione è il che cosa morale che facciamo. Ciascun atto esteriore o equivalentemente materiale che noi possiamo compiere è sempre informato da un fine prossimo o oggetto o finis operis, come un corpo è informato dall'anima. Un'immagine interessante di questo è la mano che entra nel guanto. La mano dà la forma al guanto, così come l'anima dà forma al corpo e lo fa vivere, muoversi, eccetera. Parliamo quindi a noi, se per ipotesi ci fosse solo un atto esteriore, senza però un fine prossimo, non avremmo l'atto morale, così come un corpo senza anima non sarebbe una persona ma un cadavere. L'atto esteriore di sparare, ad esempio, può essere informato dal fine morale dell'assassinio, per cui diciamo che è orientato ad un certo significato morale dell'atto. Un identico atto materiale, però, può essere informato da diversi fini morali, anche diversi tra loro. Ad esempio, incidere la pelle di una persona innocente, quindi atto esteriore e materiale, può essere informato dal fine terapeutico, quindi per salvare la vita della persona, ma può essere anche informato dal fine opposto, quindi l'assassinio. Altro esempio, l'atto del togliere i soldi dal portafoglio, può essere informato equivalentemente dal fine del furto, oppure dal fine del prestito, oppure della donazione. Facciamo adesso degli esempi di circostanze essenziali, come le avevamo chiamate, cioè circostanze in grado di influire sull'oggetto dell'atto e mutarne la natura. Mettiamo che io entri in possesso di un bene non di mia proprietà, questa è la prima circostanza, poi senza il permesso del proprietario, seconda circostanza, e senza lo stato di necessità, terza circostanza. L'atto morale in questo caso si chiama furto. Queste tre circostanze, se si presentano insieme, fanno sì che la natura dell'atto, quindi, sia malvagia. Se però mancasse una di queste condizioni, sarò di volta in volta di fronte o all'uso legittimo di un mio bene, perché è di mia proprietà, o di un prestito, perché c'è il consenso, quindi il permesso del proprietario, oppure dell'uso legittimo di un bene altrui, come accade se non ho il necessario per vivere, e ad esempio prendo del cibo senza acquistarlo perché non ho del denaro per farlo. Facciamo un altro esempio. Un rapporto sessuale, a seconda delle circostanze, può essere un atto coniugale, quando lo faccio con moglie consenziente, un allulterio, quando si fa con la moglie di un altro, ma questa moglie è consenziente, una fornicazione, con una donna non sposata e consenziente, oppure uno stupro con moglie non consenziente, uno stupro e insieme un adulterio, con moglie di un altro non consenziente, oppure un incesto, se c'è ad esempio grado di parentela tra gli agenti. Dunque, come si può vedere, la natura di un atto, a motivo di determinate circostanze essenziali, determinanti, scriminanti, può effettivamente mutare. Il fine prossimo informa sempre lo stesso atto materiale, ma le condizioni incidono sul fine prossimo e ne fanno cambiare di volta in volta l'aspetto. E l'atto, attenzione, sarà oggettivo, nel senso che si costituisce indipendentemente dal riconoscimento o meno dell'atto stesso da parte della gente. Ad esempio, prendiamo il caso, ormai, ahimè, troppo frequente, di una fecondazione artificiale eterologa, dove cioè i donatori del gamete maschile e o di quello femminile, sono esterni alla coppia che vi fa ricorso. Di fatto, un medesimo donatore potrebbe essere il padre o la madre biologico di molti figli che nascono a seguito delle fecondazioni artificiali di diverse coppie. Tutti i loro figli possono dunque essere fratelli e sorelle biologicamente, perché concepiti dai medesimi gameti maschili e o femminili. Mettiamo che tali fratelli e sorelle, del tutto inconsapevoli della loro parentela, come di fatto accade, si incontrino, si sposino e abbiano un rapporto sessuale. Si tratterebbe quindi di un atto coniugale? No. È comunque un incesto, un disordine, anche se da parte dei due fratelli non c'è responsabilità in quanto manca la consapevolezza. Il giudizio sull'impotabilità della colpa, in questo caso, al soggetto agente è nullo, in quanto entrambi non sapevano del loro legame di parentela. Dunque, noi possiamo effettivamente ingannarci non solamente sulla valutazione del valore morale di un atto, per esempio, compio un furto, conosco l'oggetto, conosco la natura dell'azione, però dico che è buono. Dunque, mi sto ingannando sul giudizio di valore dell'atto. Ma, altresì, posso ingannarmi anche sulla stessa identità dell'azione, scambiando un atto per un altro. Facciamo un altro esempio per chiarire. Quando un legislatore approva una legge ingiusta pensando così di prevenire l'approvazione di una legge ancora più ingiusta, in realtà sta approvando sempre una legge ingiusta e quindi questo oggetto è malvagio. Però è un oggetto orientato ad un fine buono, quindi limitazione dei danni. Ma la prevenzione della legge più ingiusta non costituisce però l'oggetto dell'atto, in quanto è solo il fine secondario. L'oggetto del votare a favore, invece, è proprio l'approvazione di una legge ingiusta e non si può mai, mai, mai approvare un'ingiustizia. Un'altra circostanza che può incidere sull'oggetto è la modalità dell'atto. Sant'Omaso d'Aquino scrive che un atto che parte da una buona intenzione può diventare illecito se è sproporzionato al fine. Un fine astrettamente buono, cioè non calato nel concreto come il far pagare le tasse allo Stato per poi fornire bene i servizi ai cittadini, può diventare malvagio se aumento il loro valore a dismisura e sopra le possibilità economiche dei singoli. Perciò la circostanza che riguarda la modalità dell'atto, qui sproporzionato rispetto al fine, fa sì che quell'azione, da astrettamente buona, diventi concretamente dannosa e quindi malvagia. Ora, per quanto riguarda invece le circostanze accidentali, quindi attenzione, non quelle essenziali, accidentali, in realtà avevamo dato già qualche accenno nello scorso podcast. Avevamo parlato dell'atto di rubare e avevamo paventato due possibili circostanze. Una in cui si rubasse ad un povero e l'altra in cui si rubasse ad un ricco. È abbastanza chiaro che in questo caso la circostanza della povertà o ricchezza della persona derubata non è in grado di mutare la natura dell'atto del rubare, sempre di rubare si tratta. Ciò nonostante, tali circostanze aggravano o attenuano la colpa dell'atto malvagio. Rubare ad una persona povera significa privarla del necessario per vivere e dunque assume una gravità maggiore che rubare ad una persona già ricca per la quale il bene rubato non era essenziale. Ma comunque l'atto rimane pur sempre malvagio. Facciamo ora degli esempi di intenzione. L'intenzione è costituita da tutti i fini che sono successivi a quello prossimo, quindi l'oggetto dell'atto, no? Dunque l'intenzione è il fine ulteriore dell'atto, ulteriore rispetto a cosa? Ulteriore rispetto al fine prossimo. Il fine prossimo, che è detto anche finis operis, può essere orientato anche a fini ulteriori o secondi più remoti, che sono detti finis operantis. Ad esempio, posso incidere la pelle di una persona, atto esteriore, per un fine prossimo terapeutico affinché viva felice e possa tornare ad operare come prima, fine ulteriore. Oppure, appendo alla parete un quadro, quindi atto esteriore, informato dal fine prossimo di abbellire la casa, così da ricevere apprezzamenti da coloro che verranno a farmi visita, fine ulteriore. Oppure, prendo i soldi dal portafoglio, atto esteriore, informato dal fine prossimo di rubarli, per acquistare la droga, fine successivo, per drogarmi, fine ancor più successivo, e per non pensare ai miei problemi, fine remoto. Ora, la concatenazione dei fini buoni finisce necessariamente in Dio, che è il fine ultimo. La concatenazione dei fini malvagi può essere di fatto infinita. Se combiniamo fini prossimi e fini remoti secondo la loro coloritura morale, abbiamo a che fare con diverse casistiche. La prima è il caso di un fine prossimo buono orientato secondo un fine buono. Quindi l'azione nel suo complesso è buona. Ad esempio, lavoro, azione esteriore, per guadagnare, fine prossimo, e così sostenere la mia famiglia, fine ulteriore. Per cui l'atto è buono. Il secondo caso è il caso di un fine prossimo buono, orientato però secondo un fine malvagio. Quindi l'azione nel suo complesso è malvagia. Ad esempio, educo un ragazzo al fine prossimo di istruirlo sul funzionamento delle serrature. Quindi il fine prossimo è buono, perché cerco di approfondire la conoscenza. Però lo faccio per introdurlo all'arte dello scasso. Quindi il fine ulteriore è malvagio, in quanto si tratta di collaborazione formale al furto. Il terzo caso è quello di un fine prossimo malvagio orientato ad un fine secondo buono. Quindi l'azione è nuovamente malvagia. Ad esempio, rubo, fine prossimo malvagio, perdonare tutto ai poveri, fine prossimo buono, un po' come faceva Robin Hood. Oppure si approva una legge malvagia, fine prossimo malvagio, per limitare i danni, fine successivo buono. Infine, l'ultimo caso è quello di un fine prossimo malvagio orientato ad un fine secondo malvagio. E quindi in questo caso l'azione è chiaramente malvagia. Ad esempio, rubo per drogarmi. Con questi esempi diviene ancor più chiaro quanto affermava Sant'Ommaso d'Aquino. Per rendere un'azione malvagia basta un solo difetto. Mentre perché un atto sia buono in senso assoluto non basta un particolare aspetto di bene, ma si richiede una bontà integrale. Bonum ex integra causa, malum ex quocunque defectu. Nel prossimo podcast studieremo la moralità soggettiva, ovvero la coscienza morale che in ogni singolo uomo promulga la legge naturale a cui ci si deve vincolare sulla base di norme oggettive. Oggi c'è Radio Roma Libera.org la prima emittente di podcast 14 in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org La ONG Laالa La Orazione La Organizzazione La Via La visita La visita la valода